Salute a tutti! Il mio nome è Mattia Prometeo e sono il profeta fatato del giardino che non c'è. Benvenuti o bentornati ma bentrovati all'appuntamento quotidiano della rubrica del giorno del calendario. E calendario filosofico ovviamente! Oggi è l'11 agosto 2021, abbiamo avuto 42 gradi oggi, un gran bel picco. La frase di oggi è di Luca Albani. Lasciate che ve la legga, scrittore. Sei forte tutte le volte in cui ti ritrovi a fare i conti con la solitudine e non ti accontenti di riempirla con chiunque. Bella sta frase, bella. Molto, molto bella. Solitudine, la forza. Per me la solitudine è sempre stata facile, lo confesso. Non mi sono mai sentito veramente solo e fondamentalmente perché sono sempre stato in compagnia di me stesso. Ma ci sono stati dei periodi in cui in realtà poi particolari specifici periodi in cui ho sofferto la solitudine. Quando ne sono uscito, ne sono uscito, ma insomma perché se ne sono uscito, tutto legato insieme, ne sono uscito perché avevo capito che in realtà io non riuscivo a star bene con me stesso. Avevo tanti problemi con me stesso. Non mi piaceva stare con me stesso. E chiaramente quando tu non vuoi stare con te stesso pretendi magari anche che gli altri vogliano stare con te stesso. Pesantissima sta cosa. In realtà poi quando impari a stare con te stesso, un po' perché magari cambi e diventi quello che vorresti essere. Un po' perché accetti quello che non puoi essere. Accetti che non puoi essere ciò che vorresti essere, ma perché quello che vorresti essere è un desiderio egoistico, illusorio e non nasce veramente da te. E insomma a quel punto capisci che non piacevi a te stesso perché ti avevano illuso che dovevi essere diverso e capisci che come sei invece va benissimo. Poi sulle altre cose si cambia nel momento in cui poi si attua il cambiamento, avviene in un tempo miracoloso. E insomma delle due luna. O una persona non riesce a stare con se stessa perché necessita di cambiare o una persona non riesce a stare con se stessa perché necessita di cambiare l'idea che ha di sé e smettere di giudicarsi. E la solitudine crea dipendenza. Una volta che si impara a stare da soli, stare con gli altri è faticoso. Perché? Perché si impara letteralmente a vedere la fatica, il lavoro che è stare con gli altri, la propria energia che fluisce, va via. Alla fine si inizia a creare il guscio della tartaruga e si inizia a stare con gli altri ma senza dare la propria attenzione agli altri. E gli altri stanno molto bene, stanno molto bene accanto a una persona che sta bene con se stessa. Perché gli altri se stanno con altri è perché non stanno bene con se stessi. Se tutti quanti stessimo veramente bene con noi stessi al 100%, ognuno di noi starebbe da solo per i cavoli propri e finirebbe a stare con gli altri solo perché ha una vera, specifica, umile necessità. E di fronte a questa necessità ci riuniremmo tutti per completare la missione, per completare il compito che ci spinge appunto a soddisfare questa necessità. E se no staremmo tutti per i cavoli nostri. Però il fatto qual è? E che bisogna anche dire che oggigiorno abbiamo le macchine e attraverso internet siamo capaci di ottenere conoscenza in solitudine. Ed è un quantitativo di conoscenza spropositato. Se non ci fosse internet, volessimo semplicemente migliorare, dovremmo andare... Cioè, cosa ci resterebbe? I libri. Ci resterebbero i libri. Però i libri che cosa sono? Sono un mezzo per ottenere informazioni senza andare a chiedere a una persona nello specifico. Se non avessimo internet, non avessimo i libri, non avessimo i testi, dovremmo necessariamente frequentare i maestri. E non ci sarebbe verso, e non ci sarebbe una vita al di fuori di questo. E questo per dire che in realtà la solitudine è un dono della tecnologia, è un dono dell'avanzamento tecnologico strumentale dei giorni nostri. Quindi dovremmo imparare a accogliere questa solitudine. Perché la solitudine, come la può vivere una qualunque persona al giorno nostro, era una prerogativa soltanto degli eremiti. Adesso tutti quanti possiamo isolarci dentro le nostre case e buttarci in un girono infernale di intrattenimento che non finisce più. In realtà gli altri, quando sono poi ridotti a intrattenimento televisivo di uno schermo, no? Insomma, il film che è fatto da persone, insomma, quando noi guardiamo uno schermo, in realtà nello schermo che guardiamo, guardiamo sempre solo altre persone. Vale come isolamento sì, perché uno schermo non darà, per quanto poi contenga altre persone, non darà mai il calore delle altre persone. Che solo esistendo in pace con se stessi, in una solitudine condivisa pubblicamente, già solo questo, ti riempiono la vita. Ti riempiono la vita più di ogni altra canzone emessa da un computer, da uno schermo. E quindi con la solitudine. La solitudine sì, è proprio una qualità dei forti. Non sai stare da solo a rivederci. Il fatto è che poi, comunque, attenzione, la solitudine non è semplicemente poi imbastirsi di isolamento, scusate, di intrattenimento. La solitudine non è semplicemente imbastirsi di intrattenimento. La solitudine è stare con se stessi. Poi, ecco, l'intrattenimento diventa una trappola. Una trappola tremenda. Perché poi la gente inizia a credere, ah, io sto bene da solo, quando in realtà usa l'intrattenimento, e poi magari la birra o il fumo, per fuggire da se stessi. E quindi si inizia a usare l'intrattenimento come l'alcol o il fumo. Cioè l'intrattenimento diventa una fuga dalla realtà, una fuga da se stessi diventa una droga, una dipendenza. E lì ci si fa un abbonamento da 40 euro a Netflix. Tanto per dirne una. E quindi stare con se stessi oggigiorno, con questo imbastimento tecnologico e strumentale, in realtà stare con se stessi vuol dire meditare, nel senso che, siccome di meditazioni ce ne sono una marea modi differenti, eccetera, eccetera, la meditazione di cui parlo io è il classico, come dire, è il classico sedersi, di chiudere gli occhi e fare il silenzio interiore. Dal momento in cui sei in quello stato e non hai un intento preciso, e se stai bene con te stesso, non esci più. Non esci più. Esci solo se hai una necessità. E riconosci la veridicità di quella necessità. Se invece non hai nessuna necessità, stai fermo e arrivederci. Ciao! E' bello. E' bellissimo, è miracoloso, ti senti nuovo. Però c'è tanto da fare. La vita è un gioco bellissimo. In fondo uno si distacca in questo modo, nel modo che ho descritto. Quando non ha più la gioia del fare, dell'esistere, oppure è molto stanco. Io quando sono stanco faccio così. Quando non sono stanco prendo un asce e spacco tutto. Va bene, miei cari spettatori, miei cari psicocriminali, Luca Albani ci ha ispirato così. Oggi grazie per la vostra attenzione, grazie per la vostra visione. Io come sempre vi chiedo se il video vi è piaciuto di lasciare un pollice in su, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e cliccare sulla campanella per stare sempre aggiornati all'uscita di ogni mio nuovo video. Per il resto io come sempre vi auguro il meglio, e solo il meglio. E vi saluto fino al prossimo video. Ciao!